Ancora una decina di giorni e poi la Regione Abruzzo presenterà al Mise il progetto di un piano di reindustrializzazione della Val Vibrata con l'intento di entrare a far parte nel novero delle aree riconosciute di crisi complessa. Per intenderci, oggi sull'intero territorio nazionale sono appena sette tali aree e quindi facile non sarà. Eppure sul buon fine dello studio redatto dalla provincia di Teramo, con il supporto tecnico della Camera di Commercio dell'Università Teramana, poi presentato alla Regione, crede la politica abruzzese, anche perché l'area della Val Vibrata non sarà sola, avendo la Regione Marche per l'area del Piceno, avanzato analogo progetto chiedendo la stessa identica cosa. Lì ad operare è stato soprattutto lo staff regionale dell'assessore Anna Maria Casini, ma il fine è analogo, anzi identico, e la forza della Val Vibrata, ma anche viceversa, verrà data proprio dal fatto che i due progetti sottintendano interventi su una superficie contigua di oltre 200.000 unità residenti. Di tal cosa è convinta la politica provinciale e regionale abruzzesi, ma crediamo anche quella marchigiana, che nel corso della conferenza stampa di stamane, tenuta nella sala giunta della provincia di Teramo, alla presenza del vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, dell'assessore Dino Pepe, di Massimo Vagnoni, consigliere provinciale, del presidente CNA Lanciotti e di esponenti della locale Camera di Commercio, hanno esternato ottimismo, magari con un pizzico di moderazione che non guasta mai, perché comunque il progetto di interventi sull'area della Val Vibrata, magari in maniera cauterativa, è pronto per essere adeguato a semplice area riconosciuta di crisi. Come dire, non è detto che. Lolli ha ribadito che è questo che deve fare la politica, portare avanti azioni concrete. Pepe ha sottolineato l'importanza della richiesta avanzata anche dalla Regione Marche ed il presidente di Sabatino, con un sorriso anche sarcastico, ha ricordato che la provincia di Teramo non ha mai, un solo istante, dimenticato la Val Vibrata.